Oh sì, visto che la serata non è esattamente calda, perché non battere le mani insieme? Non tanto per gratificare il cantautore Fabio, ma per scaldarsi le mani, scaldarsi le mani. Il sole è una stella che scalda e dà brunzi, così come secca e brucia i raccolti, pioggia e infestisce, rallenta il traffico ma lava e disseta la terra. E viva il freddo che ci fa abbracciare, e viva il calore che ci fa sfogliare, e viva gli uccelli se sei in alto mare, e viva il silenzio che avvena la mente. Come on! Come on! Oriente! Il comico è triste e guardato da dietro, e un uomo sorride e si scivola a un altro, una donna per sempre, che esalta l'amore. E viva un lusso e mortifica i sensi, e viva il cielo che ci fa volare, e viva la terra che ci fa sforcare, e viva un uomo lungo quando è carne e mare, e viva un sogno di pace splendente. Si torna per conoscere il mondo, si torna per conoscere il mondo. Se stessi Il confine è così labile, le speranze si assomigliano, non siamo che di tanti, solamente. Oriente! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.